benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo eh abbiamo tutto insieme i capelli spettinati il simbolo del popolo famiglia l'angelo che ci guarda le spalle vediamo se si aggiusta un po tutto grazie grazie a chi è già in diretta grazie a tutti voi vedo già arrivare giovanna arminio alessandra mondelli mary rossi alessandra bertozzi non se donne non so come mai prima di tutto arrivano anche quelli del lazio augusto caratelli giuseppe brienza dal veneto evergheno manuela miraglia vi ringrazio molto davvero tanto ragazzi adesso avremo modo di parlarci direttamente ma sapete che abbiamo fatto il miracolo vero sapete perché l'abbiamo fatto perché abbiamo fede è una cosa che sembrava impossibile a farsi come si dice gli innocenti che non sapevano che la cosa era impossibile a farsi la fecero ed è una citazione di soren kircher peraltro ma davvero importante per noi davvero importante per noi allora io voglio cominciare subito leggendo la pagina del vangelo di oggi perché penso sia ancora una volta come sempre in stampa evangelo la pagina del vangelo a illuminare di ragione vorrei dire di ragionevolezza il perché sta accadendo questo miracolo e allora leggiamola insieme tra l'altro è una pagina del vangelo di marco sapete chi segue stampa evangelo ormai da un anno e mezzo che che il vangelo di marco è quello a cui sono affezionato perché perché un vangelo che si legge in 80 minuti si può dare a chiunque e gli si può cambiare la vita a me la lettura del vangelo di marco 80 minuti lettura hanno cambiato la vita perché una lettura anche molto bella molto semplice io che nella vita poi ho fatto lo scrittore otto libri mai sono riuscito a toccare la bellezza e semplicità del vangelo di marco anche se ho sempre tentato di riprodurre quel modello vedessi i miei libri hanno la loro compattezza sono leggibili anche in una sola serata o due e io sono convinto che proprio persino il modello letterario del vangelo di marco sia clamorosamente ispirato e comunque siamo nel tempo liturgico appunto in cui ci vengono proposti ben 23 versetti oggi del vangelo di marco che sono secondo me straordinari per spiegare tutto quello che stiamo facendo anzi tutto quello che avete già fatto siamo nel quinto capitolo i versetti vanno dal 21 al 43 in quel tempo essendo passato di nuovo gesù all'altra riva gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare si ricorda lui uno dei capi della sinagoga di nome giairo il quale vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza la mia figlioletta è agli estremi vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva gesù andò con lui molta folla lo seguiva gli si stringeva intorno ora una donna che da 12 anni era affetta da emorragia aveva molto sofferto per opera di molti medici spendendo tutti i suoi averi senza avere nessun vantaggio anzi peggiorando udito parlare di gesù venne tra la folla alle sue spalle gli toccò il mantello diceva infatti se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò guarita e subito le si fermò il flusso di sangue settì nel suo corpo che era stata guarita da quel male ma subito gesù avvertita la potenza che era uscita da lui si voltò la folla dicendo chi mi ha toccato il mantello i discepoli gli dissero tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici chi mi ha toccato e gli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo la donna impaurita e tremante sapendo ciò che le era accaduto venne gli si gettò davanti gli disse tutta la verità gesù rispose figlia la tua fede ti ha salvata va in pace e si guarita dal tuo male mentre ancora parlava dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli tua figlia è morta perché disturbi ancora il maestro ma gesù dito quanto dicevano disse al capo della sinagoga non temere continua solo ad avere fede e non permise a nessuno di seguirlo fuorché a pietro giacome giovanni fratello di giacomo giunsero alla casa del capo della sinagoga degli vite trambusto e gente che piangeva e urlava entrato disse loro perché fate tanto stremito e piangete la bambina non è morta ma dorme ed essi lo deridevano ma egli cacciati tutti fuori prese con sé il padre la madre della fanciulla e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina prese la mano della bambina le disse talitakum che significa fanciulla io ti dico alzati subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare aveva 12 anni essi furono presi da grande stupore gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare questa è la meraviglia come dice vittoria polacci di questo passo del vangelo di questi 23 versetti straordinari continua ad avere fede c'è la sconfitta c'è la morte c'è il male continua ad avere fede i medici ti fanno spendere tutti i loro averi ti illudono ti fregano sembra un po i politici questi medici no continua ad avere fede nel silenzio cerca di sfiorare il mantello di gesù se indegna se sporca sei lorda di sangue ma continua ad avere fede non abbiamo altro che questo nelle nostre mani noi siamo quella donna noi siamo quella bambina noi siamo quel papà e quella mamma addolorati e feriti perché pensiamo che ormai il male sia arrivato e ci abbia travolto continua ad avere fede nel trambusto tra quelli che ti dicono che lo fai a fare non disturbare oltre non dare più fastidio cancella la tua richiesta cancella la tua battaglia per la speranza e c'è chi invece continua ad avere fede magari è la donna sporca magari è la bambina persino morta magari è un papà una mamma che stanno nella disperazione e tutto attorno tutto attorno questa è la racconto è il racconto del vangelo tutto attorno lo deridevano come dice federico pieroni lo deridevano tutto attorno il coro quello unanime continua ad avere fede ora abbiamo evidentemente costruito con sentivo già franco amato al telefono e mi continuava a dire è un miracolo è un miracolo e io ero pure un po infastidito perché tutto sommato è anche stata tanta fatica da tante notti insonni prendere quelle 43.534 firme ma aveva ragione Gianfranco ero io a non capire al telefono e dicevo ma quale miracolo ci abbiamo messo noi sì noi abbiamo messo i cinque panni e i due pesci i cinque panni e i due pesci e abbiamo messo la nostra fede e poi il miracolo ha fatto qualcun altro la ragione Gianfranco amato è un miracolo lo ripete non tutto chiedo a tutti per esempio avvertite adesso Enzo Fortunato che mi chiama in diretta sto facendo stampa evangelo per favore non telefonate eh questo Enzo Fortunato della Puglia che appena chiamato avvertite Enzo Fortunato magari in chat magari chi ha il numero ora siamo in diretta non mi telefonate mi chiamate ogni 35 secondi da un mese adesso questo dire e questa è la ragione per cui non riesco a fare le dirette anche perché ovviamente dovendo stare dietro alle richieste di tutti la diretta diventerebbe così disturbata continuamente quindi vi prego di far sapere nelle varie chat nostre che siamo in diretta ora su stampa evangelo e dunque non posso per i prossimi 40 minuti rispondere alle vostre richieste appena esco ovviamente dalla diretta riprenderò il servizio one to one che spero abbiate apprezzato dalle ore 00 alle ore 24 di tutti i giorni svolto per raggiungere il risultato straordinario che avete centrato voi perché il merito comunque vi va dato avete fatto qualcosa di straordinario di enorme 43.534 firme 97 collegi su 97 tanti fatiche tanti errori una legge impossibile da affrontare tant'è che in tutta italia solo tre movimenti sui 103 simboli depositati solo tre movimenti sono riusciti a fare 97 su 97 uno di ispirazione cattolica siamo noi uno di estrema sinistra si chiama potere al popolo uno di estrema testa che si chiama casa pound tutti gli altri hanno fatto alcuni collegi alcuni sì alcuni no e poi sono i dodici partiti i vecchi partiti che con gli brogli tipo emma bonino si sono presi diciamo il diritto a stare sulla scheda senza raccogliere le firme ma emma bonino ve l'ha detto in televisione l'ha detto sui giornali che non sarebbe stata in grado di raccogliere le 25 mila firme quindi a mio avviso occupa abusivamente quel posto sulla scheda perché noi ne abbiamo preso i 43 mila 43 mila e ripeto ha ragione Gianfranco Amato è un numero talmente enorme talmente perfetto per certi versi il 97 su 97 che davvero è un miracolo cioè Massimiliano Esposio e con Massimiliano Amato ha avuto il ruolo piuttosto perché aveva 15 collegi da coprire con la Lombardia qui dice che fatica ragazzi ma che soddisfazione è proprio l'ultima è proprio l'ultima chiusura di lista che abbiamo fatto pavia ieri notte ad averci dato la certezza del 97 su 97 un risultato davvero davvero straordinario allora veniamo adesso alle cose del giorno le cose del giorno sono quelle che avete letto sui giornali le risse per i candidati noi tutto in scioltezza da fratelli e sorelle a testuggine non conta la faccia di nessuno conta il risultato ed è straordinario il lavoro che è stato fatto a testuggine cioè ognuno a combattere per il proprio fratello per la propria sorella uno a fianco all'altro a coprire con lo scudo gli attacchi degli uni agli altri quelli feriti li abbiamo tirati su e allora quello che abbiamo fatto ora però ha un rischio un rischio vero che vi voglio sottolineare subito siccome è stata fatta un'impresa titanica oggettivamente di clamorosa portata rischiamo la sindrome di appagamento cioè dirci è fatta abbiamo raggiunto questo risultato straordinario eccoci qua adesso quello che viene buono ho sentito scrivere in alcune alcuni testi non è così ora dobbiamo centrare il risultato vero che è quello dei voti ricordatevi siamo un particolare movimento politico senza dubbio particolare ma un movimento politico quindi il nostro core business cioè il nostro obiettivo fondamentale è la raccolta del consenso cioè un milione di croci sul simbolo del popolo della famiglia d'accordo emiliano velasco dice in questa diretta siamo quasi 300 non è così siamo 300 connessi istantaneamente in questo momento ma nell'arco della diretta cioè i 45 minuti della puntata di stampa evangelo si saranno almeno 12 mila persone a connettersi perché ovviamente qualcuno viene vede tre minuti viene quattro minuti e questa è la connessione istantanea contemporanea il totale il totale è dato da tutte le connessioni istantanea contemporanea e saremo circa 12 mila credo a spanne già oggi più le quelli che lo rivedranno quindi quello che dobbiamo fare adesso per far arrivare la connessione a più persone possibile il mi piace la diretta lo sapete già forse il mi piace per tutelarci con l'algoritmo quindi tutti mi piace la diretta tutti insieme fate il condividi sul vostro profilo quindi fate la condivisione sul vostro profilo in maniera che le persone che stanno sul vostro profilo possano vedere e invitate direttamente gli amici a partecipare alla diretta perché ora diremo qualcosa di importante su come si raccolgono un milione di voti visto che siete stati così bravi a raccogliere 43 mila firme certificate che è molto più difficile di raccogliere i voti d'accordo 43 mila firme certificate è il livello importante da cui partiamo alessandra dice adesso 12 mila voti di più cara alessandra i 12 mila che sono connessi in questo momento in tutta evidenza che si connetteranno alla puntata di stampa evangelo sostanzialmente stiamo riempendo un piccolo stadio questo deve essere chiaro non devono solo essere persone che ovviamente seguendo stampa evangelo sono vicini al popolo della famiglia devono diventare motori loro stessi di promozione del popolo della famiglia come si prendono i voti d'accordo oggi parliamo di questo in questa diretta saluto anche mirco de carli record man 1950 firme a senato romagna 1 che è il record assoluto della nostra raccolta firme 1950 in un solo collegio è arrivato enzo fortunato l'avete avvertito che stava in diretta saluto anche enzo ci sentiamo al telefono dopo la fine della diretta è arrivato bruno forte un avvocato castrazionista è stato determinante nella zona roma sud quanto sono grato a bruno forte non ha mai fatto tutto questo ma è diventato una fondamentale parte della nostra destuggine danilo leonardi ha ricordato che il primo collegio in assoluto che è stato provato ha provato guarda caso è stato senato roma 1 cioè dove sfidiamo emma bonino anche se repubblica dice che gli adicicco ha fatto il family day sono arrivati proprio alle fake news vere l'organizzatore e gli adicicco di fratelli d'italia insomma vabbè siamo alle fake news davvero e questo è uno dei problemi questo è uno dei problemi cioè noi saremo affrontati come con le notizie false col tentativo dell'oscuramento mediatico ieri telegiornali non hanno dato notizia sostanzialmente che c'era il popolo la famiglia hanno citato tutti persino casa pound ma a noi non ce citano perché la necessità è di tenerci bassi come si dice e perché questo perché disturbiamo le coalizioni prendiamo voti a tutti quindi tutti ci vedono come un problema in più c'è questa cosa i vincenti annunciati quelli del centrodestra hanno questo meraviglioso matteo salvini che oggi è andato addirittura sui giornali a dire viva le unioni civili adesso c'è questa novità viva le unioni civili ecco adesso fortunato voleva dirmi questo la gazzetta del mezzogiorno ha censurato la lista del popolo e la famiglia evidentemente in tanti giornali è successo questo devo dire alcuni altri per esempio repubblica oggi nella pagina del lazio ci ha tutelato ci ha messo il simbolo sulla pagina messaggero ha messo i nostri simboli non si capisce perché solo alla camera e al senato no vabbè qualche volta sono anche errori materiali eh la cosa adesso è dare le liste a tutti i giornali ieri ho svegliato claudio a demollo a mezzanotte perché il tirreno la nazione repubblica firenze non avevano i simboli e le liste del popolo la famiglia quindi dico a tutti i coordinatori regionali di dare immediatamente le liste e i simboli ai giornali locali che tra l'altro li stanno cercando quindi dateli voi quando vi censurano vi dico vi censurano è perché forse non avete fatto voi l'azione di dare a un collega in mano le liste in maniera che le pubblicasse questo è il nostro lavoro eh avvenire pure oggi non ci cita c'è Don Mirko Bianchi eh ma adesso stiamo lavorando su questa su questo lavoro ovviamente la nuova bussola quotidiana l'informazione cattolica si rifiuta di menzionare il pdf dice Gabriele Marconi tranquilli keep calm and pray the lord come ho scritto in un momento in cui mi stavo facendo uscire pazzo restate calmi e pregate il signore questo è quello che conta i giornali non vendono ma sono dei venduti dice Beatrice Gragnato appunto facciamo quello che dobbiamo fare ragazzi non troviamo scusa a noi stessi evidentemente abbiamo degli avversari evidentemente abbiamo dei nemici alcuni nemici sono violentissimi vedete questo in Toscana non ti non ti vogliamo ovviamente arriva a scrivere qui non firmandosi poiché è un vigliacco viene e scrive con un profilo fake perché ricordatevi sempre noi guardatevi ci stiamo firmando tutti col nome e col cognome noi mettiamo la faccia i nemici arrivano sempre col profilo fake persino nelle chat cattoliche non avete notato che i più vehementi contro il pdf non hanno il nome e il cognome mettono il nickname per non essere riconosciuti noi ci mettiamo la faccia noi ci abbiamo messo 43 mila firme nome cognome luogo data di lanci da codice fiscale documento ci abbiamo messo tutto ci potete venire a prendere a casa insomma capito gli avversari invece no sempre un po belli di sguincio sempre un po vigliacchi sempre senza un nome allora Andrea Cataldo dice non è vero Mario io sono toscano e ti voglio grazie Andrea ma certo la Toscana ci vuole abbiamo raccolto una valanga di firme in Toscana dunque ai leoni da tastiera spieghiamoglielo che non ci fermano con quattro chiacchiere a Pescara avevano fatto la manifestazione dei centri sociali eravamo 250 noi e 6 loro 250 noi e 6 loro d'accordo chip shop qua è venuto a cinguettare come gli dicono allora la trasmissione non è interrotta se vi si interrompe lo dico a Silvia Lodale che io la vedo fluida è perché magari vedo un sovraccarico basta farla ripartire d'accordo basta farla ripartire allora Roberto Mura lo ringrazio tantissimo Vittoria Polacci ecco tutti gli amici toscani che arrivano Roberto Bruno tutti toscani pro femmini ovviamente ricordatevi amici noi dobbiamo prendere il 3% il 4% vuol dire che 96 sono ostili 96 non vogliono il pdf sono avversari mettiamocelo in testa non facciamoci prendere le sindrome dei martiri perché è una battaglia politica è una battaglia politica è una battaglia di parte quindi dobbiamo prendere una parte del consenso una parte dei nostri avversari sarà anche molto violenta magari dei più prossimi ma noi dobbiamo sapere che questo è nel conto questo è nel conto Simona Lupi ringrazia in Abruzzo l'avvocato Tulliola che ha tra l'altro supportato la raccolta firme ha supportato anche il nostro Patrizio Alessandrini e la consegna firme ieri eccoci Raffaele Scornavacca della pdf Calabria che ha accolto Silvia che si è fatta 800 chilometri in un giorno per portare un certificato di Giovanna Arminio che nel fattempo stava ad aiutare gli amici del Trentino Alto Adige perché questa è la nostra clamorosa fratellanza d'accordo questo è ciò che vuol dire essere fratelli e sorelle uniti a testuggine se serve si fanno 800 chilometri in un giorno per andare a portare un certificato lo fa Silvia Pardolesi che nel fattempo è candidata perché serve un tappabuchi in Trentino e c'è Giovanna Arminio in Alto Adige a fare le liste ma allora per portare il certificato di Giovanna Arminio in Calabria ci va Silvia cioè ci aiutiamo l'un l'altro adesso arriva un'altra notizia che hanno chiuso il profilo di Massimiliano Amato alto scandalo non osino toccare i profili dei dirigenti del popolo famiglia in campagna elettorale è qualcosa di assolutamente intollerabile intollerabile d'accordo tutti dicono che la diretta funziona benissimo quindi Silvia lo dà attacca e riattacca intollerabile Massimiliano Amato censurato adesso cercherò di capire per quanti giorni se magari vi fate sapere se mi dice per quanti giorni l'hanno bloccato io farò immediatamente un appello adesso tramite Facebook perché non vengano toccati i profili dei dirigenti candidati alle elezioni del popolo famiglia sarebbe una violazione gravissima incostituzionale in campagna elettorale va bene gli attacchi va bene essere nemici va bene augurarci il male ma non toccate i nostri profili perché sarebbe davvero il momento in cui possiamo assolutamente solo scendere con le armi legali e vedrete che questa volta la violazione sul piano costituzionale non sarà tollerata persino dall'ordinamento giuridico come il nostro allora andiamo avanti andiamo avanti con saluto angelo argento lo saluto nostro amico del pd che non condivide nulla il nostro programma viene a darci l'imbocca al lupo perché la democrazia è fatta di voci plurime e allora saluto angelo eh c'è Alessandro Margiotta straordinario protagonista della battaglia in Emilia Romagna Rimini Corrado Salonia il nostro uomo di Avola Avola sapete il nostro territorio di elezione grazie Corrado per tutto quello che hai fatto c'è l'avvocato Manila Mattei Maria Cristina De Marco allora Maria Cristina De Marco dice dobbiamo far conoscere il nostro movimento non dobbiamo far conoscere il nostro movimento dobbiamo far conoscere il nostro simbolo d'accordo questo è il simbolo portatelo sempre con voi stiamo facendo stampare milioni di cartoncini milioni milioni d'accordo adesso arriveranno ai referenti regionali i cartoncini perché noi dobbiamo fare una campagna elettorale estremamente semplice i cartoncini contengono il simbolo la data delle elezioni come si vota una sintesi brevissima il nostro programma reddito di paternità contro la cultura della morte non all'aborto e l'eutanasia il reddito quotiente familiare investimento sulla famiglia molto sintetico con quel cartoncino noi dobbiamo instaurare arrivato anche il nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo eroico fategli un applauso fategli un applauso a Nicola un lavoro straordinario su tutta Italia in più la Sicilia con tutto ciò che comporta fare politica in nove province siciliane davvero eroi noi dobbiamo far conoscere il nostro simbolo sarete dotati di questo cartoncino avrete anche dei manifesti il nostro problema è che il 90 per cento degli italiani non conosce il simbolo quindi fuori dalle chat fuori dalle discussioni inutili fuori dalle polemiche straccione con questo quel esponente del dnf non serve a niente non serve a niente quando attaccheranno perché attaccheranno risponderò e come sapete risponderò con i toni necessari anche quando mi dicono che i toni sono eccessivi ma io userò i toni necessari per spiegare a chi è andato a mettersi col carro della lega che adesso dice con salvini sui giornali oggi che vanno bene le unioni gay e che giulia buongiorno farà il ministro guardasigili e dunque ci condanneremo a una legge scalfarotto fatta da buongiorno e scalfarotto bene a costoro noi avremo da rispondere sempre ma non è questo il terreno della nostra campagna elettorale la nostra campagna elettorale andare a prendere un voto alla volta un voto alla volta d'accordo dobbiamo fare un voto alla volta ogni giorno ciascuno di noi ha un compito preciso andare col simbolo del popolo la famiglia vi ripeto abbiamo fatto stampare milioni di cartoncini che vi arriveranno nelle vostre sedi milioni per rivelare quel milione di voti andate con i cartoncini in mano incontrate ognuno di voi dieci persone dieci persone è il vostro compito giornaliero quotidiano per un mese dieci persone a cui direte a quei dieci che sapete poter ricevere il nostro messaggio vota popolo la famiglia e quando dite vota popolo la famiglia vi fate vedere come si fa perché la gente deve sapere come si fa e non lo sa la legge elettorale è nuova pensa bisogna mettere il nome bisogna fare una croce sul simbolo solo questo i nomi non contano nulla non fate l'errore di fare campagne personali la campagna elettorale è solo sul simbolo si fa la croce sul simbolo del popolo la famiglia si incontrano dieci persone al giorno che possono ricevere il nostro messaggio non in maniera volante per strada li si incontra istituendo una relazione bisogna fare una relazione umana perché il nostro consenso non è un consenso improvvisato nasce da relazione il nostro la bellezza del nostro lavoro di raccolta firme che abbiamo conquistato decine di migliaia di persone relazionandoci non considerando gli oggetti per noi ogni persona è persona è fortemente dignitosa è fortemente capace l'intelligenza e dunque ha dovere del nostro rispetto essere lì a voler convincere la sua intelligenza e a convincere il suo cuore e allora ogni giorno una croce sul simbolo dieci persone convinte maria marroso dice se mettiamo il nome si annulla la scheda sì le schede sono nulle se scrivete il nome perché i nomi sono prestampati sulla scheda d'accordo l'unica cosa che dovete fare è la croce sul simbolo la campagna elettorale è per avere croci sul simbolo incontrate dieci giorni dieci persone al giorno a cui con certezza consegnate i nostri cartoncini che incontrino loro ciascuno dieci persone finito il nostro lavoro amici se noi anche solo quelli che siamo qui in contatto che vedono la diretta di oggi che comunque sono 12.000 14.000 persone se sono queste 12.000 14.000 persone che ricevano oggi questo messaggio faranno questo lavoro per i prossimi 30 giorni cioè incontrare persone a cui dare il cartoncino col simbolo dire devi votare con una croce semplicemente con una croce sul simbolo queste sono le nostre proposte programmatiche le trovano dietro con il link al sito dove si possono vedere tutte e 65 le proposte della commissione torriero brienza bonaiuto fogone dopo aver fatto la croce sul simbolo e aver convinto questa persona dieci persone al giorno ciascuno di noi affidate a quelle dieci persone lo stesso compito ne convincano ciascuna altre dieci se studiate la progressione matematica se noi i nostri 12.000 14.000 di oggi faranno questo lavoro ogni giorno per i prossimi 30 giorni noi avremo almeno fatto arrivare praticamente a tutto il paese la notizia che c'è il simbolo del popolo della famiglia in competizione la nostra battaglia sono di di matteista su questo l'ho appena scritto e andare per strada ma non per stare a incontrare persone a caso lo ripeto si va a fare i gazebo si va a fare l'incontro ma per instaurare relazioni con le persone se date un volantino a un passante che corre via non avete fatto nulla dovete instaurare relazioni per questo è fondamentante anche l'attività del cenacolo cioè un tè con dieci amici con dieci amiche una cena la cena più dispersiva fate i tè che sono di pomeriggio e sono più efficaci e lì consegnate ogni giorno questo incarico a ognuna delle dieci persone l'incarico di incrociare altre dieci persone ciascuna e solo questo lavoro nei prossimi 30 giorni semplicissimo farà sì che tutta italia avrà avuto in mano un cartoncino del popolo la famiglia e saprà che esiste questa opzione se tutta italia saprà di questa opzione se tutta italia saprà di questa opzione noi potremo ottenere tranquillamente la certezza del 3 per cento ho stampato ho scritto 10 fac frequently asked questions cioè le dieci domande che vi fanno sempre perché non siete in coalizione ma se voto voi butto il mio voto ma nel collegio non vincerete sono dieci domande le tipiche domande le ho scritte sono sul mio profilo facebook sotto questa diretta le ho stampate sul quotidiano la croce vi imploro abbonatevi al quotidiano la croce fate questo piccolo sacrificio per candidare le persone forza italia chiedeva 30 mila euro a candidato noi non abbiamo chiesto nulla se però voi spontaneamente andate su www.lagrocequodidiano.it slash abbonarsi trattino ora e vi abbonate dare un po di sostegno vi iscrivete fate fare l'iscrizione sostenitore al popolo la famiglia a qualche amico magari la fate voi la regalate poi a qualche amico date un po di sostegno a un movimento ovviamente sapete lavora a mani nude e ha già speso tanti tanti quattrini solo in questa fase di raccolta firme quindi se potete abbonatevi alla croce che il nostro organo ufficiale la nostra gazzetta ufficiale lì ci trovate le dieci frequently asked questions stampate dunque sono stampate e in più trovate le informazioni tutti i giorni oggi la battaglia per isaia questa enorme e continuo problema i governi di centrodestra se li lascia andare senza valori come in gran bretagna sono i conservatori che governano da tempo in memore da tempo in memore è un governo di destra da tempo in memore e hanno fatto la legge sul matrimonio omosessuale elton john falluto in affitto hanno ammazzato charlie gard e ieri la sentenza con cui apriamo il quotidiano la croce hanno determinato ancora una volta la sentenza di morte per un piccolo di undici mesi contro il valore dei loro genitori si chiama isaia ora capite bene che se il centrodestra si svincola dai valori e inevitabilmente vince la buongiorno con la sua opzione la buongiorno è una persona seria io la conosco ma una formazione fontemente contraria ai nostri principi non negoziabili è un bravissimo avvocato ma una opposizione proprio totale esultava per la legge ci rinna vuole la legge sull'omofobia che ci manderebbe in galera quel centrodestra lì è inevitabilmente destinato a fare l'evoluzione di tutte le teste europee diventare avaloriali a meno che come dice amato non si pianta il chiodo nella coda del serpente con il chiodo nella coda del serpente allora si ferma questa deriva perché questo è il problema serio che noi dobbiamo capire noi dobbiamo essere quelli che bloccano questo tipo di deriva avaloriale capito deriva avaloriale altrimenti salvini comandato va sui giornali a dire viva le unioni civili va bene tutto sì non le adozioni ma viva le unioni civili la buongiorno ma non candidata in cinque circoscrizioni la buongiorno guarda sigilli è così la legge scalfarotto buongiorno la votano sicuramente come prima legge della prossima legislatura volete questo allora se non volete questo è nato il popolo della famiglia vi dicono ah però lì il centrodestra poi perde a noi che ci importa noi vogliamo i voti per il popolo della famiglia perché se quel centrodestra è condizionato a noi è l'obiettivo politico che ci siamo posto quindi quelli che ci dicono non dovete votare il popolo della famiglia perché altrimenti no perché altrimenti è la nostra finalità condizionarli condizionarli d'accordo è la nostra finalità dobbiamo condizionarli altrimenti la deriva è quella che avete visto prima salvini diceva no la legge cirinale adesso va bene le unioni civili candida la buongiorno e in più ci regala anche il meccanismo del viva le unioni civili basta che non adottino il la deriva è inevitabile vi è chiaro il processo politico o noi piantiamo il chiodo nella coda del serpente e dunque facciamo votare il popolo della famiglia lasciando perdere tutti i ricatti dici perché parli della testa e non ti occupi della sinistra perché noi siamo evidentemente alternativi alla sinistra è chiaro che non possiamo avere noi non cerco non prenderemo i voti di di grasso della boldrini no è evidente noi però dobbiamo salvare l'italia e per salvare l'italia dobbiamo prendere un milione di voti un milione di voti di persone che hanno in questo momento un dubbio se andare a votare o no è il primo dubbio che hanno 40 per cento di persone non vuole andare a votare e noi dobbiamo portare al voto dobbiamo dire che la deriva ovviamente la sinistra e cinque stelle non sono neanche considerabili sono i nemici da battere i nemici da battere e chi comintino a fa sta storia del sei tu che derivi a sinistra mi è chiarissimo sappia bene che ero deputato del partito democratico e se devo fare tutto sto casino per aiutare il partito democratico restavo a fare il deputato del partito democratico mi sembra abbastanza ragionevole insomma no quindi questo argomento è privo di qualsiasi fondamento se no restavo lì non mi facevo cinque anni di insulti casini minacce alla famiglia 455 mila pagine di haters contro maria di nolfi per poi dare una mano là restavo là è molto semplice da deputato a 15 mila al mese e invece sono qui a fare battaglia pro life quindi questo argomento toglietelo dal tavolo perché oltre a essere falso vi mostra anche come imbecilli d'accordo perché da imbecilli provare a dire ah no vuole aiutare il pd restava nel pd faceva il deputato del pd restava lì grande lanfranco lincetto intanto al friuli mezzo giulio pure lanfranco viene dal pd alcuni di noi hanno pensato a un certo punto pensate un po che poteva esserassi un grande partito popolare di massa che condizionasse il paese su questi temi ha visto che non succedeva è finito a processo per omofobia come il sottoscritto due volte ai propri viri e hanno detto sai che c'è rinunciamo alla poltrona rinunciamo ai 15 mila al mese e battiamoci per le nostre idee altrimenti non saremo mai liberi saremo sempre schiavi di quei 15 mila euro al mese molto semplice e abbiamo visto ecco stefano fusi diciamo ragione anch'io vengo dal pd abbiamo visto lì dentro avanzare il male ne siamo usciti adesso stiamo strappando voto a voto anche da lì per far vincere un'opzione valoriale e dovesse festeggiare per tutto questo festeggiare invece di dire no che siete capaci di dire questo noi siamo qua a fare il complotto a favore del pd e per cinque anni abbiamo fatto la recita per fare il complotto dai ragazzi almeno non essere imbecilli sembrate intelligenti che fatica ragazzi voi pensate tutto il giorno tutti i giorni con queste accuse con quelli che hanno detto il 9 di dicembre ha fatto il patto e si è fatto finanziare c'erano le foto del 9 dicembre in cui io stavo a praga con silvia per le uniche 24 ore di riposo che che ci siamo dedicati in queste sei mesi era proprio il 9 di dicembre sono stati capaci di scrivere che era il 9 dicembre almeno guardati la pagina facebook ero a praga però è possibile che mi abbiano pagato in rubli può essere che mi abbiano pagato in rubli dell'ex unione sovietica perché sono stati capaci di dire che il 9 di dicembre ero a fare l'accordo segreto con il pd per farmi finanziare pensate le idiozie tutti i giorni tutto il giorno a leggere idiozie anche pesanti sul sottoscritto c'è poi qualche volta gli rispondi male e fate un po voi venite nei miei panni e vedete se ogni tanto non verrebbe pure a voi di rispondere male vedo che luca almeno ha capito che vedremo i fatti i fatti sono incontrovertibili caro caro luca federico pieroni mi piace incacchiato e spettinato non è vero federico pieroni mi manda i vocali voglio svelarlo in cui ogni volta dice devo stare buono calmo non mi devo agitare non devo rispondere male lo fate tanti voi questo è devo dirlo e siete sono grato sono grato a ognuno di voi che mi dice sempre stai calmo non reagire non dire le parolacce non però vi prego mettetevi un minuto nei miei panni provate a pensare al livello di stress che poi quando fai 97 collegi in tutta italia e pensate cosa significa quando dentro a questa cosa ti trovi gente magari che è fuoco amico che ti dice le cose peggiori che ti dice le cose peggiori del mondo inventa accuse finte alla fine dice non dovete votare per il pdf perché altrimenti poi bannaggia perde salvini che dice sì alle unioni civili quanto ci dispiace se perde salvini ma quanto ci dispiace se perdono quelli che non hanno mai fatto niente a favore della famiglia questa legislatura cambia se lo schema centrodestra centrosinistra che al governo dal 2011 da quando ero in parlamento io e votavamo tutti insieme centrodestra e centrosinistra tutti i provvedimenti lo schema salta se salta il governissimo centrodestra centrosinistra che è già scritto nel rosatellum che è già scritto nel rosatellum il rosatellum è stato scritto e hanno tolto di mezzo l'italicum per fare il governissimo centrodestra centrosinistra che governa l'italia dal 2011 no le fantomatiche maggioranze pd 5 stelle che non esistono in natura l'esito delle elezioni vuole essere per tutti quelli che hanno fatto il rosatellum la maggioranza centrodestra centrosinistra il sistema salta se può intervenire un elemento come il popolo famiglia con un milione di voti a far saltare lo schema allora magari facciamo il governo centrodestra popolo famiglia alle nostre condizioni condizionando pesantemente l'agenda politica e non facendola scrivere a giulia buongiorno e neanche a matteo salvini che adesso vuole la prostituzione legalizzata e gli vanno bene pure le unioni civili adesso cerchiamo di fare un'altra cosa cerchiamo di essere talmente intelligenti quando vi diranno nel collegio nominale c'è gli adicicco contro la bonino non deve votare adinolfi deve votare gli adicicco che è uno del femmini dei gli adicicco è un funzionario di partito bravo eh io federico io voglio bene è bravissimo però se volete far vincere le ragioni vere del femmini dei per cui vi siete battuti c'è un solo voto possibile al popolo della famiglia dunque a senato roma 1 a adinolfi che è il candidato del popolo della famiglia in ogni collegio nominale perché avete una sola croce una sola croce non si ne possono mettere due d'accordo sulla scheda c'è una sola croce che potete mettere e dovete decidere io ovviamente rispetterò chi deciderà di votare altro ma l'opzione che cambia la pagina già scritta dell'esito di queste elezioni che è il governo centrodesto centrosinistra l'opzione è il voto al popolo della famiglia per votare popolo della famiglia ricordatevi dovete incrociare persone costruire relazioni da oggi non semplicemente fare gazebo per dare roba ai passanti dovete convincere ogni giorno ciascuno di voi dei 12.000 che oggi seguono questa diretta dieci persone al giorno e consegnare a queste dieci persone il lavoro di incontrare anche loro a loro volta dieci persone al giorno nicola di matteo conferma che faceva il family day gli adicicco del family day e io sono il papa e ha ragione lui oggi repubblica e giornali una velina di chissà quale mano vorrei proprio vederlo da gli adicicco come uno che ha fatto il family day un organizzatore del family day ecco ce l'avete l'organizzatore del family day si chiama nicola di matteo dove stava nicola gli adicicco quando facciamo il family day di sotto coi politici d'accordo allora svegliamoci amici dice nicola di matteo vogliamo battere la bonino mi sono candidato contro la bonino e contro la cirinna poi ad aiutare gli amici in sardegna aiutare gli amici a bergamo e brescia andiamo a votare e andiamo a votare perché avete una sola croce lo ripeto una croce per la camera una croce per il senato non fate l'errore di disperdere il voto l'unico voto utile è il voto al popolo della famiglia se non volete rivedere il centro sinistra al governo ricordate se non volete rivedere il centro sinistra al governo con il centro destra avete una sola opzione usare quella croce per votare popolo della famiglia è solo una croce avete non ne avete due tre non c'è il voto disgiunto potete farne una sola cercate sulla scheda camera e sulla scheda senato il simbolo del popolo della famiglia e fate quella croce altrimenti il prossimo governo è ancora un governo col centro sinistra a dare le carte insieme al centro destra e quando vi dicono dunque che noi siamo quelli che fanno vincere il centro sinistra rispondete siete voi quelli che fate vincere il centro sinistra e non da oggi da otto anni e infatti vi hanno contaminato non avete contaminato niente cari amici dico ai nostri amici vi hanno contaminato e infatti la salvini oggi dice vanno bene le unioni civili e salvini oggi dice che fa la buongiorno che pro legge cilinna e pro legge scalfarotto lo vuole fare guardia sigilli chi vi dice che il centro sinistra lo aiutiamo noi ripeteteglielo voi ci governate da otto anni insieme avete votato insieme a questi le leggi più infami ci sono 70 persone che hanno votato a favore legge ci rinnacca adesso vi ricanditate nei collegi noi non saremo complici del vostro lavoro di riportare il centro sinistra al governo il centro sinistra lo battiamo noi se il popolo della famiglia diventa il soggetto che rompe l'unità fra centro sinistra e centro destra ricordatevi che il centro destra non ha ricandidato il senatore andrea ugello che io conosco bene perché abita in questo palazzo peraltro perché il senatore andrea ugello di centro destra ha dato fastidio nella commissione banche e dunque il centro destra per non dare fastidio a renzi al centro sinistra non l'ha ricandidato l'ha cancellato l'ha cancellato capito non l'ha ricandidato perché dà fastidio a matteo renzi ha dato fastidio in commissione banche e allora punizione del centro destra per opera del centro sinistra non ricandidatura del senatore andrea ugello e andate a vedere su internet se è vero o no quello che dico andare su google per quelli che non si fidano perché l'obiettivo il patto primigenio di questa legislatura e del è di tornare alla elezione di un governo di centro destra cento sinistra volete non vedere più il centro sinistra al governo avete una sola possibilità votate popolo della famiglia e rompete questo schema spero che avesse detto un po tutto ragazzi questa diretta è importante condividetela dappertutto fate arrivare la condivisione di questa diretta ovunque ricordatevi di rispondere a chi vi accusa e di rispondere con orgoglio la nostra battaglia in campo una battaglia di persone che hanno fede e dunque sono capaci di rispondere a coloro che accusano con le menzogne con le menzogne come dice bene laura quarta bravo re mario chi tocca renzi sparisce e hanno fatto esattamente questa operazione hanno cancellato andrea ugello quelli del centro destra perché aveva dato fastidio in commissione banche vi hanno messo salvini ora dice a dire che vanno bene le unioni civili vi hanno già detto che fanno il patto omofobia autonomia per avere la legge sull'omofobia la buongiorno è la garante di una legge anti omofobia cioè contro di noi per mandare noi in galera volete far saltare questo banco votate popolo della famiglia non c'è alternativa perché come dice bene da lino lonardi la saldatura tra centrodestra e centrosinistra è sui quattrini sugli affari sulle cose che interessano davvero altro che valori dai valori ci occupiamo noi in realtà l'obiettivo primigenio lo ripeto della stessa legge elettorale folle che hanno fatto è di costruire condizioni affinché si possa fare solo il governissimo centrosinistra centrodestra se volete fermare quella opzione avete una sola possibilità quella sola croce utilizzatela bene è la croce che dovete dare al popolo la famiglia dovete incontrare da oggi ognuno dieci persone dare loro il simbolo spiegare che devono fare una croce su quel simbolo hanno una sola croce spiegate bene come si vota e a ognuno delle persone date il mandato di incontrarne altre dieci così ce la facciamo così prendiamo un milione di voti faremo una campagna elettorale reticolare e prenderemo un milione di voti e stupiremo l'italia avete una sola croce croce sul simbolo incrocio con dieci persone al giorno ciascuno di voi a ognuna di queste dieci persone dite di incontrare altre dieci persone questa è la nostra campagna elettorale come dice angela ci conti nostra capolista in calabria ha fatto uno straordinario lavoro una croce seguendo la croce luciano orsino ci saluta da benevento un abbraccio anche ai beneventani altro collegio dove abbiamo fatto uno sforzo straordinario bravissimi spero di avervi detto tutto abbonatevi per favore al codiano la croce iscrivetevi al pdf iscrivetevi come soci sostenitori date una mano a questo sforzo immenso che stiamo facendo stiamo stampando milioni milioni di cartoncini per farvi fare questo lavoro vi arriveranno anche i manifesti 100 140 per le vostre città e per le vostre iniziative è uno sforzo enorme lo potete immaginare anche economico anche economico quindi per favore www.lacrocequodidiano.it slash abbonarsi trattino ora banalmente vi abbonate al giornale magari da sostenitori oppure vi fate la tessera anche lì se potete da sostenitori o lo regalate da sostenitori a qualcuno perché questo ovviamente aiuta il nostro sforzo negli altri partiti hanno chiesto 30 mila euro ad ogni candidato voi capite che noi non vi abbiamo chiesto nulla davvero nulla zero e dunque se potete sostenerci in questa maniera www.lacrocequodidiano.it slash abbonarsi trattino ora anche regalando magari da tessera a qualcuno anche regalando l'abbonamento a qualcuno fatelo sostenitore perché ci date una mano concreta e sostanziale Gabriella statuta ci chiede di Genova abbiamo Stefano Arrighi il nostro capolista in città dunque il lavoro da fare è questo abbiamo capito perché è il popolo della famiglia che è l'unica ancora contro un nuovo governo del centrosinistra appoggiato al centrodestra siamo noi che facciamo saltare il banco già scritto e saltare l'ennesimo governo col centrosinistra a dare le carte insieme al centrodestra siamo noi e dunque il voto al popolo della famiglia serve a battere il centrosinistra siamo noi quello che ora dobbiamo fare questo lavoro dieci persone al giorno ciascuno di noi che poi consegna a queste dieci persone il compito di incontrarne altri dieci usciamo dai social come dice giuseppe focone andiamo a incontrare le persone per costruirci relazioni lo ripeto relazioni spiegando come si vota c'è una sola croce ricordiamola e facciamolo usare bene oggi sarò alle 20 e 45 a fare campagna elettorale a pinerolo pensate un po è abbastanza lontana da qua quindi pregate per me per i viaggi affinché non mancata niente nei tragitti andiamo sempre a 190 all'ora perché siamo sempre in ritardo andiamo sempre per uno con le multe connesse ma dobbiamo qualche volta volare altrimenti non si riesce arrivare in tempo alle iniziative e facciamo il lavoro che dobbiamo fare sul territorio facciamo il lavoro che dobbiamo fare ripeto se potete venire a pinerolo le dico agli amici piemontesi facciamo una bella iniziativa oggi a pinerolo facciamoci vedere tutti ecco c'è anche luca barra di cirie luca mi aspetto che arrivi a pinerolo oggi con gli amici voglio vedervi tutti i piemontesi perché voglio parlare a ciascuno di voi e dare indicazioni a ciascuno di voi sarò lì alle 20 e 45 a pinerolo mi pare 20 e 45 sì dunque stasera ci vediamo con i piemontesi in quel di pinerolo intanto prepariamoci con i lombardi per vederci a cremona invece il 2 il 2 sera a cremona c'è un'iniziativa poi in umbia con gregolini mi pare il 2 stesso nel frattempo curiamo tutti i dettagli io vi ringrazio davvero per il lavoro che avete fatto che state facendo avete costruito un miracolo avete messo i cinque panni due pesci e la nostra fede ha fatto il resto perché dio c'è e ci aiuta e ci tiene sempre le spalle c'è sempre un angelo a tenerci le spalle siamo in battaglia ragazzi e adesso allora convinti a fare quello che dobbiamo fare a salvare il paese dall'ennesimo governo di centrosinistra l'ennesimo governo di centrosinistra che poi dà le carte con il centrodestra per salvare l'italia dall'ennesimo governo di centrosinistra con salvini che dice viva le unioni civili con salvini che dice viva il guardasigilli che a favore della legge cirinà e della legge sull'omofobia a fare tutto questo c'è un manipolo di eroi e quegli eroi siete voi lo sapete sapete bene che queste cose o le fa il popolo la famiglia cioè o le fate voi o non le fa nessuno quindi facciamo quello che è necessario fare anche salutare raffaele bianchino il nostro straordinario amico di asti che non riesce ad arrivare a peterolo perché è influenzato un abbraccio a maria marroso grazie davvero maria ho letto da qualche parte t'hanno insultato in qualche maniera non lo so visto claudio che ti difendeva comunque sapete che nel vangelo è scritto hanno perseguitato me perseguiteranno voi non c'è scritto avrete il red carpet a hollywood quindi insulti ce li prendiamo combattiamo quando è necessario reagiamo un po di guance sono finite lo dico a quelli che vogliono fare i professionisti dell'insulto ora come dice bene cristina zaccanti però abbiamo toccato il suo mantello il miracolo è accaduto ora andiamo solo a vincere a prenderci come direbbero a gomorra tutto quello con uost forza ragazzi un abbraccio davvero viva il popolo della famiglia viva l'opzione che farà finalmente finire la stagione dei governi di centosinistra mortiferi portatori di leggi che sono la cultura della morte supportati da un cento destra che purtroppo sui valori ha ormai ceduto il passo a difendere a piantare il chiodo del serpente il chiodo nella coda del serpente come dice gianfranco amato saremo noi cioè noi vuol dire uno di noi ognuno di noi ognuno di voi incrociando dieci persone da oggi e dando a quelle dieci persone il mandato a parlare altre dieci affinché quel milione di voti diventi qualcosa di davvero possibile una croce su questo simbolo tutto qua è molto semplice e l'italia cambia e riparte grazie alla famiglia un abbraccio da maria di nolfi